Eccoci qua, dalla prima registrazione di Vermintile 2 Con Andre e Gabri C1P8 E special guest Ari Ecco, ovviamente non parte finché non arriva Ari Hello, Ari Oh, un nano di 23 Eh, questo ci può far comodo, direi Persona seria Ari E anche il tempo E le parole di Gabri per me sono incomprensibili Se Andre le ha capite È il tempo, ha detto che è il tempo Ah, traduttore di C1P8ese Eh, come un solo Quando capisco una sciupa, io capisco Gabri Comunque è un talento utile Ah, per YouTube, eh ragazzi, come volevo dire, per la gloria Per Sigmar Per Narnia Per Narnia Li piglio in testa e non muoiono Li piglio in testa, penso di prenderli in testa Io che mi ci perdo continuo Potremmo di Speed Perchè l'avete snubbata così questa potion di speed? Oh, non mi piace Ari sta andando tipo A Tra poco ha preso un tomo ari, ari è uno professional comunque i tomi di questa mi sa che li so anch'io ah si? si perchè mi sa eh qui c'è un'altra ilindro non vorrei... l'ho presa vorrei parlare troppo presto c'è un altro ciccio ciccio mi sto ammazzando quelli normali io mi sento un nepromantico che fa un sacco di giusto c'è uno grosso, è maluto oh oh ok per adesso o piece of cake? ah arriva l'orda appena l'ho detto no! bet karma! che c'è? ma hai lasciato il game vai oh non ho detto hai lasciato solo con c1 più 8 però non lo capisco non lo capisco capri parlami in segnali morse puoi imitarlo puoi imitarlo gas rot approccia gas rot gas rot eccolo il gas rot mori gas rot ma... ma sto lostando io? no sto lostando io se no avremmo già perso ah ecco ti invito perchè mi ho fatto ricominciare un altro partito con un altro con dei boss? no no io ti sto invitando andre credo che ti invito no no ma ho invitato anche gabry però qualche problema c'è sempre qualche problema questo gioco ha dei problemi io delle volte si crashano le partite broken connection niente vi buona fortuna io non so che dire no riavvia ritorna broken connection mi ha dato un numero magari riavviando non te lo da come fai ad avere una connezione rotta il tramite joining c'è uno storm vermin è morto ma ce n'è un sacco venite a divertirvi anche voi c'è uno ciccio ah ma il nano è una bestia allucinata ecco tibet karma ah? ci sei? oh boh no ti senti noi ti vediamo online eh sì solo che sto spawnato in mezzo a qualche minuto non mi avevi visto boh non cazzo sono nel gas ok maledettive macci ratacci non stanno al vermin ma nessuno c'è una bomba ma ma che ne so io ci manco una connessione tra poco prima della bomba ti serve una connessione eh sì ok sono morti tutti let's go mi sa che il nano ci sta tentando di dire qualcosa si va a prendere un tomo ho fallito il salto ovviamente come sempre ma lui ha già un tomo non può prendere un altro tomo eh infatti lo prendo io che so ma sei riuscito a fare i salti ti scrivo complimenti non riesco mai un maestro dei salti quello che non mi riesce proprio mai è quello di del del cosa del conte eh ma io ho visto come lo fanno Andrea è presente sì sì io no è presente cioè so dov'è ho capito no anch'io ma quando salta bisogna arrivare sul 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 lampione poi vai sulla casina lì accanto e eh sì quello è allucinante no quello è stra difficile perché devi fare tipo 4 o 5 salti di fila eh sì qui ce n'è un altro di tommy cioè di robe grosse si c'è in fondo di morio o altro si ma c'è tipo una roba grossa aiuto sì sì no c'è un milione di persone dietro di me io mi sto pigliando a frecciate nel viso che vero si sono anche arrabbiati con me eh occhio dio c'è questo coso gigante accanto non mi ne racconto è morto ma lo stavo frecciando io sì 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 ho fatto dei dei caos warrior dei puntaspilli sì quassù qua c'è doveva seguiamo cosa seguiamo sotto c'è uno spinta magliano qui c'è una pozza qui c'è un tomo eh come un tomo no ci ha lasciato il tomo madonna merda dove ci ha lasciato la cosa bravo mare mare grazie oh hey dove sono tutti stiamo ritornando in là stiamo ritornando in là io sto dietro di lui perché questa cosa è lunghissimo e ci sono dei mostrini quindi se se becca degli speciali se uno da solo sì è un sbaglio prendere i grimori perché per qualche punto esperienza in più non finiamo la mappa fai gatterrunner è l'assassino wtf let's go andiamo dobbiamo attraversare sto fiume Eh no, io sono un pochino occupato Come sei un pochino occupato? C'è tipo un milione di mondi No, no, no Mi fa un minuto adeguato No Allora, andiamo, andiamo C'è una lage che non vedo niente Let's go Attraversiamo sto dannato fiume Healing draft Me la puppo io? Me la puppo io C'è un'altra Bravo Ari Andiamo, andiamo a liberare il forte dall'assedio In quattro, vai In quattro, facciamo tutto noi C'è una pattuglia, temo Lasciamola in pace Andiamo via Via, via, seguiamo il nano Il nano è il nostro condottiero Vai, sì Ho preso una strada accanto Spero di trovarvi di nuovo C'è un rat train? L'ammazzo appena posso Dove? No Che sta succedendo? Aiuto C'è qualcuno giù Non so perché Non è dove Eh no Ah, c'era un mancatcher Ho fatto a mancarlo con la super mossa Ho fatto a mancarlo con la super mossa Ho fatto a mancarlo con la super mossa, cioè Ho fatto a mancarlo con la super mossa, cioè Eh, Gabri, Gabri Ti do Gabri ti do una cosa, una foto Ah no, c'è il C'è un ultimo Qui c'è un medikit, Gabri vieni qua Usalo, usalo Sì Abbiamo due, Tommy Non ne abbiamo tre Ah, mi sa che uno è dopo Uno è dopo Se non ricordo male Dietro abbiamo tipo Il mondo Anche davanti Ok Andiamo un po' di quelli dietro Qua Dietro finito Sì Cioè Non dovrei dire Ora sono finiti Let's go Anche da un po' di quelli D'accordo Da un po' di quelli Un po' di che Perché ero rimasto lì ma stavo per scendere Fat Karma, perché non ti curi tu? Sì No, second Grimm no, ecco No, ma perché? No, ma bimbi no Correte Dai dai Ce la faremo Due Grimm no ma nella vita Eh vabbè Come avete fatto a perderlo? Ha usato una cosa Book dice Ah c'è il tomo? Il tomo prendiamolo Non sapevo se potesse lasciare il Grimorio Ma io Esplode Ma buttate il Grimorio Non sapevo se potesse Non sapevo se potesse smonare Almeno nel primo non si poteva Evidentemente in questo si Eh è quasi fatta eh, dobbiamo entrare, tirare le canonate e uscire Oh no, silenzio Let's go Show medikit Are you blind? Help C'è un medikit Non le fiega nulla Ok No no andiamo Andiamo Ho una testa di ratto Andiamo Andiamo Io seguo il nostro mondo Ti ero? Ho una testa di ratto Let's go Nem ha piaciuto potenti Ah, bene E' un porto in a storm Oh man E' un porto in a storm E' un porto in a storm E' un porto in a storm Oh no Fiorire il canone Let's go il canone Venite venite su Che poi uno al canone non fa niente Va protetto Venite pamponi Sono al cannotone eh Si come va prima da volta votata giù arrivano proteggetemi aiuto aiuto arrivano 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 mi picchiano riuscire ad andare a recuperare la palla mancherà una palla di cannone adesso lode cannon let's go ma come dopo tu e scusa ti stupisce non capisco calibro zero sta giocando a 2 che io perché mi ha cambiato arma aiuto aiuto ora sta giocando a warhammer però l'istinto l'ha portata a mettere comunque dota 2 ecco dove cazzo è la palla è su un tetto no kruber vado a prendere sta palla ce l'ha il nonno ce l'ha non lo vedo è qui è qui sta salendo no kruber vado a prendere sta palla vai fa fire the cannon perfetto ora bisogna solo uscire let's go let's go venite qui sotto il nano è già fuori venite bimbi si vai vai è fatta bisogna arrivare alla collina ottima bomba la tiro anch'io va anche più veloce bu 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 è fatta bravissimi e questa era su youtube ma che bella figura incredibile grazie a tutti